Ciao cari amiche del blog coccinellecreative.blogspot.it Avete voglia di essere innovative e sempre diverse? Avete mai visto questi bei fantastici orecchini, ovviamente simili al blog, in tema al blog che mostrano le coccinelle? Queste coccinelle sono realizzate a uncinetto. Come potete vedere sono dei fantastici orecchini. Ora vi mostro l'occorrente per realizzarle. Allora vi servirà una matassara gomitolata rossa, una nera in cotone, un cinetto 1.5, un semplice ago a cruna larga e delle semplici forbici da ricamo. I puntini che vedete qui, questi qui, sono realizzati a punto nodino. Troverete il tutorial che vi mostra passo passo nel mio blog, come realizzare il punto nodino al meglio. Fantastici, belli e ora che arriva la primavera, l'estate, sono veramente bellissimi, apprezzati anche moltissimo nel mio blog. Inoltre, nella sezione cosa cerchi del menu laterale, troverete la voce schemi uncinetto, orecchini, lì troverete lo schema per realizzarli. A presto, al prossimo video, ciao ciao!